Stanno arrivando insieme al monte Sto arrivando un nemico, attenzione in alto! Cosa è? Cosa è? Cosa è? Cosa è? Cosa è? Cosa è? Pico, ho capito! No! 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 noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo il tuo compagno è nel gulag, chi sopravvive si guadaggia oooooooooooooooooooooooooo nooo la fine la riusci a occuparmi E' un team, sul ping c'è lei, ping arancione che ne guarda, dal ping arancione. Eccola, one shot, mi ha becca in testa. Se vuoi, tocca dal ping arancione che c'è un team. Eccolo, dosso. Eccolo. Eccolo. Eccolo che provo a descrivere la mia situazione attuale. Eccolo. Eccolo. No. Wow. E' smosso che lo fa, è un po' rabbia. Eccolo. Stasore dei arretti. Sei lì proprio. Vabbè, tanto sono morto. Li abbandono. E anche mi spengo perché non ti ho fatto. Ah, è un po' scuolarti in vita. Ah, un dato che l'ha spento. Unico, unico, unico. Ma è l'avviso anche Versaglio marcato, richiedo supporto aereo ravvicinato attacco in corso Fini la taglia, adesso è in due GANATA PARTITA! ma non viene da qua eccolo eccolo mi spara da davanti GANATA PARTITA! no è mega chechina un altro team del fumogeno verde ti dà una botta? ah stare stare mi autoresce mi asperà so che è la collinezza qua che sono un team oh viva lì 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 lì! ah faccio una granata! un attimo sta tocando un altro un altro un altro un altro un altro sta scappando non so c'ha qua altra parte 42 metri sopra aspetta ora non siamo esporsi troppo ora aspetta aspetta devo spararti mi muove addosso mi dovrei essere qua ci rivedo non li vedo non li vedo nooo tre team lì sotto a destra sono sicuro che c'è qualcun altro un team avverso dirigibile devo spararsi avverso dirigibile ok qua mi sembra una buona posizione 28 metri sono più di quanti tutti da al fianco spara a caso può attaccare il coso non vuoi il team è la nata partita è la nata partita vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua hola GG controlla non vuoi l'altra partita si quello è la tenda è ancora vivo 2 minuti qua si che ero 2 minuti qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua Merda! Già l'altri due stai qua? Che palle The walker 10 palle Ecco l'ha corso Gio Giungiamo la zona sicura Questo qua ragazzi devo guardare in gioco cosi Nel mega vittoria Maffa te no le rotto Cazzo ho perso le viste le tera Cazzo ho perso le viste le tere E' un altro team Viene un altro e la veste Merda E' lui mi seno Devo morire del molotov Del molotov Cominci, puoi aspettare un attimo Si, sono un po' in safe qua però Siamo in un bel posto Wow e mi puoi entrare qui dentro C'è solo mio un altro E' un altro Gli sparava qua sotto quindi Gli sparava qua sotto quindi Vabbè Dio calma quel cazzo Mi serve una sacca di un po' No tutto zero Tutto zero Aspetta 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 Ho proprio i semi in su Cazzo in arrivo c'è un Cazzo in arrivo Beh usa la maschera adesso Fai il salso sotto qua Te c'è Uri Sì Vabbè vecchio Mori vecchio Uff No ma che s'è stato su Lo chiude mi sa Perché casca Abbandonare la maquina Pardollare metrica Guarda che lo dò Che dice Di morire Io calmo ancora gente Di tre cosa? Beh Rippuscio Sa che le crasciate le dò Che ho visto farmaci Controtro una mura Sì Si perché le dà una furda partita Niente a me spara Sai qua davanti Sì, ragazzi, che vuoi? Ah, sì. No, qua davanti, tipo, dovevo dare la mappa. Cazzo. Se dovevo dare la mappa, non si era accorto che mi guardava. Ah, sì, guarda che hai visto arrivare a colpa a cadute. Sì. Uniquito di tutti. Andani. Mi spengo. Mi spengo. Guardate, trio. Mi spengo. Mi spengo. Mi spengo. Mi spengo. Mi spengo da dentro. Che altro che vede? C'è la granata così. Mi spengo. Mi spengo. Mi spengo. Mi spengo da dentro. Mi spengo da dentro. No. Allora, l'ho visto. Se c'è lui che era morto fosse morto chiamati a di mani aveva una maschera Ah io aveva rubato qui dovevi, andiamo a guardarlo Che non lo passo, non mi dà quanti a ti Cazzo siamo 1-1-1 eh Eh si, uno si può morire in mezzo al fuoco Siiii Che cazzone Cazzo Cazzo Eh saca sono qua Cazzone Non ci sono qua Ah si fermo è fermo che fosse a Fasera cazare venire a te in contro Fermo è fermo è fermo è a putà Bella 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 Ti evito che fosse a Fasera cazare venire a te in contro e il mega mi ha visto scappare davanti uno e uno dice due da soli ok uno l'avevo visto e lo go l'hangar è pulito e l'altro lo viene su lei è su ponte cazzo l'altro mi sa che lo abbiamo a destra ma chi manca uno lei è qua lei è sotto a sinistra qua 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 sotto a sinistra ma mi da sempre fastidio con l'altro che non vediamo è solo la destra ok visto l'altro l'è qua ok qua sotto no a destra maledetto merda quindi è tutto a tua destra e uno l'altro è ancora lì 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 è morto 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 Ehi la Ehi la Ehi la Ehi la Ehi la ma per un'altra perché l'ho poco visto